Bella a tutti i miei slimes qui alb, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con un nuovo video e oggi parliamo della scena rap di Detroit. Ci concentreremo sugli artisti che specialmente in questo momento stanno facendo bene, stanno portando questa scena in alto, parlano anche di qualche piccolo beef. Come al solito prima di cominciare vi invito a lasciare un mi piace, un commento, se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale e fatemi sapere cosa ne pensate magari di quello che potrebbe diventare un format in cui andiamo a parlare di diverse scene americane. Una cosa che amo tantissimo personalmente del rap americano è che a seconda della città in cui ti trovi, del paese in cui ti trovi, trovi dei rapper con uno stile tutto loro. In che senso? Ad Atlanta c'è la trap, a Chicago c'è la drill, a New York pure c'è la drill, a Los Angeles magari c'è lo stile un po' più West Coast e a Detroit anche la scena inizia ad avere un sound che la caratterizza in pieno. Oltre a Detroit negli ultimi anni anche città come Memphis stanno cominciando ad avere i riflettori puntati su di sé. Ma concentrandoci su Detroit non è che è una città in cui non c'è mai stato nessuno davvero forte perché a livello mainstream negli anni scorsi sono usciti Eminem e Big Sean e sono già due nomi che bastano e avanzano. Quello che forse non c'è mai stato o è sempre stato un po' carente è una scena unita piena di artisti interessanti che si supportano a vicenda. Chiaramente però come in ogni città non mancano i beef e oggi ne parleremo anche di qualcuno. Infatti a dir la verità se da Detroit sono usciti pochissimi rapper a livello proprio mainstream è anche dato dal fatto che come città è abbastanza criminale. Io direi di partire dalle basi, possiamo suddividere la città in due aree principali quantomeno dal punto di vista musicale e criminale, la Six Mile e la Seven Mile. E visto che siamo nel discorso io partirei dal primo beef di cui avevo intenzione di parlarvi, vale a dire quello tra For2Dug e Sadababy che risale a qualche anno fa. Innanzitutto For2Dug già la conosciamo, ci ho fatto un video sopra e vi lascio il link in descrizione nel caso in cui vi voleste fare un'idea più chiara su chi è. Nel suo caso viene dal Six Mile ed è un rapper che come abbiamo già visto respira l'aria di strada sin da piccolo. Proprio il 42 nel suo nome è un riferimento alla Astle Gang, una gang locale affiliata ai Crips. Al contrario Sadababy si avvicina alle strade in età più avanzata, 19 anni inizia a fare musica e dopo 3 anni, visto che la musica ancora non pagava i suoi affitti, va a vivere dalla nonna iniziando anche a fare qualche lavoretto. Ed è proprio intorno ai 22-23 anni che Sadababy entra a far parte di una gang locale, questa volta però affiliata ai Bloods. Tenete conto che queste due fazioni, vale a dire la For2 Gang e la Red Zone Bloods, sono in guerra tra di loro dal 2014 più o meno. Di conseguenza il beef tra i due rapper non era una cosa personale ma era dato dal semplice fatto che facevano parte di schieramenti opposti. Ora entra in azione un altro rapper, Tee Grizzly, probabilmente già ne avete sentito parlare e anche lui è di Detroit con un passato segnato dalla criminalità. Ma nonostante questo non si è mai schierato né dalla parte del Six Mile e né da quella del Seven. Viene cresciuto principalmente dalla nonna visto che i genitori facevano avanti e dietro dalla prigione. Pensate che nel 2011 sua madre è stata condannata a 20 anni di carcere per traffico di droga e nel 2012 purtroppo ha perso il padre. Nonostante questo Tee Grizzly ha deciso di iscriversi all'università nel Michigan fino a quando i costi sono diventati insostenibili e ha cominciato a rubare nei dormitori. Dopo un po' è stato beccato, l'università ha avviato un'investigazione nei suoi confronti ma tutto sommato dopo poco è stato rilasciato. Dopo per sé è stato rilasciato assieme a dei suoi amici ha rapinato una gioielleria nel Kentucky. Purtroppo l'operazione non è andata a buon fine e insieme ai suoi tre amici è stato arrestato. Viene quindi condannato a nove mesi di carcere per la gioielleria e dai 18 ai 15 anni per i furti all'università. Uscirà definitivamente nel 2016 droppando il First Day Out. Ma ora cosa c'entra Tee Grizzly con il beef tra 4TwoDoug e Sadababy? Come ho detto prima non è associato a nessuna gang. Ad inizio carriera ha collaborato con 4TwoTwins in una traccia chiamata Secrecy. Più tardi invece deciderà di mettere Sadababy sotto la sua etichetta. Questa cosa ai tempi fece arrabbiare molto 4TwoTwins che in delle Instagram stories diede del fake a Tee che a sua volta ha risposto dicendo che è solo business non c'è nulla di personale e l'importante è che tutti si arricchiscano. E' andato per un po' avanti questo botte risposta tra i due ed è proprio in questo modo che Tee Grizzly si è trovato al centro di questo beef. Nel 2019 esce MWBL una traccia di 4TwoDoug con Tee Grizzly. La gente chiaramente quando ha visto che era uscita questa canzone ha pensato che il beef fosse acqua passata. Ma non è così. Ad agosto sempre del 2019 Tee si trovava nella Third Mile area ad est di Detroit quando qualcuno ha aperto il fuoco sul suo veicolo. Per fortuna il rapper ne è uscito illeso ma lo stesso non si può dire di sua zia JB. Una donna che oltre ad essere appunto una parente era la manager del rapper che purtroppo appunto poi è morta nell'incidente. Non gestiva solo Tee ma anche Sada Baby che poco dopo l'incidente decide di lasciare l'etichetta di Tee Grizzly non essendo contento del fatto che il suo seo collaborasse con i suoi ops. Il beef tra 4TwoDoug e Sada Baby comincia ad accendersi quando inizia a girare una voce secondo la quale Doug avrebbe rubato una collana a Sada Baby durante una sessione di studio. A questo punto entra in gioco Do Boy un rapper di Cleveland con cui Sada non aveva un grandissimo rapporto ed essenzialmente durante una live il primo ha cominciato a dare del fake a Sada deridendolo anche per la collana rubata. La cosa tra i due va avanti per un po' e allo sfottose aggiunge anche 4TwoDoug che oltre a deridere il rapper si prende anche i meriti dell'accaduto. Il 4 settembre 2020 esce Detroit 2 un progetto di Big Sean in cui troviamo Friday Night Cypher una canzone in cui ci sono sia i feat di 4TwoDoug e sia di Sada Baby. Il secondo spiega in un'intervista che quando ha registrato la sua strofa non aveva la minima idea che nella stessa canzone ci sarebbe stato anche Doug aggiungendo anche che la sua strofa era trash. Chiaramente anche Doug ha risposto a modo suo sfottendo i suoi amici morti in una diretta su Instagram. Comunque a grandi linee è questo il beef che c'è stato tra loro due, una cosa che per certi versi è andata avanti sui social però poi sono successi anche incidenti come quello di Tee Grizzly in cui poi effettivamente non si è capito chi sia stato diciamo il mandante. Ora tralascerei questo argomento per un attimo e mi concentrerei su cosa effettivamente caratterizza il sound Detroit. Vi lascio un piccolo spezzone per capire di cosa stiamo parlando. Come avete avuto modo di sentire per quanto riguarda le produzioni sono molto ripetitive, quasi pesanti. E per il cantato si può fare un discorso un po' analogo, non ci sono molti cambi di flow, poi dipende chiaramente da artisti in artistia e anche in questo caso il suono è un po' stagnante. La cosa figa a mio avviso sono proprio i testi perché sono caratterizzati da punchline devastanti che spesso e volentieri sono epiche per le cose che poi vengono dette. Se in particolare volete approfondire questo stile qui vi consiglio di ascoltarvi qualcosa di Rio da Yango G ed RMC Mike che insieme hanno dato vita a Dumb e Dumber, una saga che va avanti da tre album in cui lo stile shit talking è fatto davvero bene. Se invece cercate qualcosa sempre su questo stile però un po' più elaborato vi consiglio Pisi che a Detroit può anche considerarsi uno dei migliori rapper a fare questa roba. Tra l'altro può anche definirsi il mentore di Rio in quanto è lui che in un certo senso l'ha guidato nel business della musica. Cresciuto nella povertà dalla parte di sua madre erano tutti drug dealers e infatti racconta in un'intervista di aver vissuto in delle vere e proprie crack house dove essenzialmente vedeva ogni giorno anche i suoi familiari totalmente drogati. Adesso mi volevo concentrare su due figure in particolare di questa scena con cui io personalmente sto entrando molto in fissa e sto parlando di Icewear Vezzo e Babyface Ray. Tecnicamente non sono un duo ma molto spesso collaborano tra di loro formando anche una bella coppia affiatata. Piccolo fan fact Vezzo è cugino di Sada Baby che abbiamo trattato ad inizio video ma a differenza sua è un affiliato dei Creeps. Classe 89 ha 33 anni quindi non è proprio un ragazzino e infatti ha diversi progetti alle spalle. Racconto in un'intervista con il Breakfast Club di quanto si sia davvero fatto il culo per arrivare adesso dove anni e anni di gavetta è stato anche in galera e come vi dicevo prima è difficile emergere da Detroit se sei un rapper di strada. Tuttavia da un paio di anni è cominciato ad andare davvero forte nella scena americana e ciò è dovuto anche alle collaborazioni che sono uscite. Una fra tutte No The Difference una canzone con Lil Baby che oltre ad essere una hit assurda ha fatto aprire gli occhi a molte persone su di lui e in generale sulla scena di Detroit. L'anno scorso ha droppato Reach of Pines 2 un album in cui oltre a diversi artisti della sua città natale tra cui anche Babyface Ray troviamo Future in ben due canzoni. Circa uno o due mesi fa non di più è uscito anche Reach of Pines 3 il terzo capitolo della saga in cui troviamo Lil Baby, Lil Dirk, G Erbo e tanti altri. E poco dopo aver droppato l'album ha anche firmato un contratto discografico con Quality Control. Anche nel caso di Babyface Ray rapper classe 91 ci sono voluti circa una decina d'anni prima di avere i riflettori su di sé. Nel 2022 è uscito Face che credo sia il suo album di maggior successo supportato anche da una Deluxe Edition. All'interno troviamo diversi fit interessanti Pusha T, Lucky, Youngling, G Erbo, Bezzo ma anche altri. Sempre durante quest'anno è riuscito anche a collaborare con artisti di un certo calibro come Future nella Deluxe del suo ultimo album I Never Like You. Così come per Bezzo parliamo di due artisti che sono rimasti in ombra per fin troppo tempo ed è bello che anche se in ritardo le persone finalmente si stiano accorgendo di loro due. Un altro beef che ha fatto parlare molto di sé in questi anni a Detroit è stato quello tra la bandgang e la cashgang. Per quanto riguarda i primi è un collettivo nato ad ovest di Detroit non sono particolarmente conosciuti per la loro musica, almeno non quanto come lo sono per gli scam e per le loro attività criminali. Mentre della cashgang il membro più conosciuto è FWC Big Key che pensate un po' con il tempo ha assunto il soprannome di Big Op in quanto a beef con praticamente tutta Detroit. Tra queste due fazioni c'è sempre stata ostilità ma allo stesso tempo non c'è mai stata una guerra vera e propria, quantomeno non inizialmente. Ciò che ha fatto traboccare il vaso è stata la morte di Dex Osama, un rapper di Detroit che negli anni 2010-2013 era considerato uno dei possibili crack a livello mainstream. Proprio nel 2013 fu messo sotto contratto dalla Dream Chaser label di Mick Mill e si pensava che potesse fare il salto di qualità e riportare Detroit al centro dell'attenzione. Faceva parte dei Choppa Boys, un gruppo che non aveva legami né con la bandgang né con la cashgang e oltre ad essere un artista interessante aveva anche una street credibility non indifferente. Fatto sta che un giorno Dex Osama ha dissato in una delle sue canzoni un membro della bandgang deceduto in seguito ad una sparatoria e questo ha cominciato a creargli dei problemi con il collettivo. Il 7 settembre 2015 Dex viene sparato ed ucciso fuori uno strip club di Detroit. Nonostante non fosse affiliato con la cashgang Dex era in buoni rapporti con Big Key che una volta scoperta la morte di Dex ha cominciato a prendere il beef con la bandgang molto più sul personale. Qualche anno più tardi, più precisamente il 23 settembre 2020, Giselle P, membro della bandgang, viene assassinato. Il rapper è stato brutalmente ucciso in un drive-by, si trovava in macchina assieme ad un amico quando un altro veicolo è giunto sul posto sparando raffiche di proiettili. La cosa più triste è che tutto ciò è successo, pensate un po' sotto gli occhi della madre, visto che la macchina era parcheggiata appena fuori casa. A questo punto anche la cashgang ha incominciato a derider la morte di Giselle P sui propri social, prendendosene anche i meriti. A confermare questa tesi c'è la testimonianza di Javar, un altro affiliato della bandgang che fu sparato lo stesso giorno alla stessa ora, ma fortunatamente per lui è riuscito a sopravvivere. Ma non finiscono qui le brutte notizie perché appena qualche mese più tardi il collettivo perde anche bandgang paid will dopo essere stato colpito da un proiettile in testa. Ma tutte queste uccisioni non possono fare altro che attirare l'attenzione della polizia e infatti nel 2021 la casa di Big Key viene perquisita dai federali. Viene trovata una pistola e la sua collana con la scritta Big Key, grazie alla quale la polizia riesce a risalire all'account Instagram del rapper e di conseguenza a trovare diverse prove in alcuni degli omicidi. A questo punto la galera per il rapper sembrava una cosa certa, ma in qualche modo è riuscita ad uscire su cauzione. Il beef a questo punto non fa altro che accendersi sempre sempre di più, soprattutto dopo che la bandgang ha rischiato di perdere un altro membro. Bandgang Lonnie infatti viene sparato alla testa ma incredibilmente è riuscito a sopravvivere. Io direi che per oggi possiamo fermarci qui, abbiamo parlato della scena di Detroit dal punto di vista musicale, i maggiori esponenti e abbiamo parlato anche di qualche beef. Voi cosa ne pensate di questa scena? Già la conoscevate? Insomma scrivetemi nei commenti tutte le considerazioni che avete da fare sulla scena dal punto di vista musicale, criminale e quant'altro, vi leggo tutti. Come al solito se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste mi raccomando iscrivetevi al canale se lo siete già attivate la campanellina. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, l'account TikTok, il gruppo Telegram, le mie playlist del rap americano mi raccomando. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete e noi ci vediamo ad un prossimo Slat.